Eccomi! C'è una bella armonia, c'è una sorta di serenità e questo fa piacere. Dall'alto del suo ruolo da veterano, io le chiedo invece in favore dei giovani dall'esterno, quindi da consiglieri in seno a questo Consiglio, quale apporto si aspetta da loro? Beh guardi, io mi aspetto molto dai giovani, non soltanto nel Consiglio, ma anche nella città, nel Paese. Grazie, perché insomma io credo che bisogna preparare un gruppo dirigente nuovo in questo Paese. Io ho fatto il mio tempo, naturalmente, continuo a dare una mano perché probabilmente c'è ancora bisogno, avendo io seguito tutta una serie di questioni, che dia una mano, ma bisogna preparare qui a Roccello un nuovo gruppo dirigente, perché ancora in una maniera o nell'altra, come dire, questo Paese ha una presenza ancora forte, se non predominante, del gruppo dirigente che si è costituito nei partiti negli anni, nei decenni passati. Non soltanto c'è bisogno di questo, ma c'è bisogno anche, e credo che i giovani devono essere i protagonisti di quello che sto per dire, di far circolare aria nuova dentro la politica in questo Paese. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale che metteva in rilievo i limiti straordinari dei vecchi partiti e di alcuni di questi partiti in particolare, non soltanto qui a Roccella, ma in tutta la Calabria. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale che in qualche maniera deve definire rivoluzionaria, una nuova politica per una nuova città, non si può avere una nuova città diversa se non facciamo una politica diversa. I vecchi partiti hanno dimostrato ad abbundanzi, qui a Roccella in particolare, che non sono in grado di fare se non la vecchia politica dell'acquisizione del consenso con tutti i mezzi possibili e immaginabili e con l'unico scopo, non quello di lavorare per il Paese, si aumenti il consenso in modo che si aumenti il potere della classe politica la quale può alle prossime elezioni comunali, provinciali, regionali, si può presentare magari per aspirare a posizioni più prestigiose e così via. Noi abbiamo cercato di rompere questo circolo vizioso qui a Roccella. E non è senza ragione il fatto che questa lista che abbiamo costituito vede metà del PD, vede una parte importante del Partito della Libertà che si è spezzata, o Popolo delle Libertà o come si chiama, che si è spezzata anch'esso. E ci siamo riuniti intorno a un progetto, a una sorta di patriottismo municipale, a un progetto per Roccella. E allora vede che questo qua ha bisogno, questo patriottismo municipale, di non essere rinchiuso entro i confini ristretti né di una giunta né di un consiglio comunale. Ma questo patriottismo municipale si regge se riusciremo a coinvolgere la grande maggioranza della popolazione di Roccella e in particolare quel segmento della popolazione di Roccella che ha più interesse, ha un certo futuro per Roccella che sono naturalmente i giovani. Perfetto.